Musica Ben ritrovati in giro per il mondo, non so se fe l'ho già detto ma questo è un programma eccezionale perché? Perché ci consente di conoscere, conoscere davvero luoghi che magari non abbiamo mai visitato anzi quasi sicuramente non abbiamo mai visitato e lo facciamo seduti comodamente in poltrona vi ci porto io in giro per il mondo, naturalmente non da sola sono sempre in studio con un ospite di Avventure nel Mondo, Angolo delle Avventure Milano con un coordinatore che ci farà vivere un'esperienza unica questa sera il paese che andremo a conoscere è un paese ricco davvero di cultura ma non solo, è un paese davvero mistico quasi e che prevede grandi camminate in queste camminate si pensa, si può pensare tanto davvero anche all'essenza della vita chissà se la troveremo qui grazie a tutti eccoci qua questa sera andiamo in Nepal, non ve l'ho detto subito, non vi ho parlato subito dell'Himalaya altrimenti facilmente avrete compreso dove saremmo andati a portarci in Nepal è la nostra Silvia, Silvia Antonini ciao ciao, benvenuta è un'accompagnatrice proprio specializzata in Nepal sui social ti conoscono come Reina Ronkpuk, l'ho letto giusto? sì, perfetto ma è un nome che ti sei data proprio andando in Nepal, no? andando all'Everest, Ronkpuk è il campo base Everest Nord no, ho capito, quindi è vent'anni che lei viaggia per il Nepal e quindi è diventata una collaboratrice molto importante per l'angolo delle avventure prima di tutto dove si trova il Nepal? beh, allora iniziamo a mettere dei... il Nepal è un piccolo staterello, avete visto già subito nel vostro incipit di più o meno 147 mila chilometri quadrati è incuneato sotto l'India sopra l'India e sotto la Cina, il Tibet cinese è un paese ovviamente piccolino, 30 milioni di abitanti un paese che è nato grazie alla subduzione delle placche asiatiche a quella praticamente indiana e ha creato praticamente l'Himalaya è un paese molto particolare in quanto va dagli 80 metri sul livello del mare fino agli 8.848 dell'Everest hai capito cosa hanno fatto queste due placche? hanno creato niente meno che le catene fra le più alte al mondo le cime più alte al mondo sì, infatti il suo territorio è fatto tipo a Fisarmonica lo vedete nella fotografia c'è una parte pianeggiante, la pianura gangetica successivamente delle colline e una valle meravigliosa che si trova più o meno a 1400 metri dove sorge la capitale Katmandu e successivamente altre colline che riportano fino appunto al tetto del mondo ma la cosa particolare del Nepal è il fatto che la storia e la leggenda per come è nato si fondono tra di loro ed è una cosa bellissima infatti lo possiamo vedere appunto nella fotografia la valle di Katmandu un tempo era un lago era un grandissimo lago e questo lago è stato praticamente dimostrato dai geologi essere stato veramente esistente in epoche molto antiche e la leggenda cosa dice invece? loro ti raccontano che c'è stata una divinità che si chiama Manjushri che è questa signora che vedete in basso a sinistra con questa spada la spada della conoscenza lei è la divinità della conoscenza ha spaccato con questa spada le colline attorno a questo lago creando un varco creando questo varco le acque si sono incanalate si sono incanalate in questo canyon vicino al villaggio di Chobar si chiama così e incanalandosi le acque un fiore di loto che era navigante in questo lago si è posato su una collina sulla collina di Suoyambu che vedete in basso a destra per cui questo fiore di loto posandosi su questa collina ha dato inizio alla civiltà in questa area e in questa zona infatti il colle si chiama Suoyambu Nat che vuol dire nato da sé e da lì è prosperata la civiltà ed è particolare quanto comunque le leggende vedete si confondono veramente sulla storia geologica del luogo e questo già ti fa capire un attimino il fascino del paese che sta appunto in questa commistione tra storia e quello che si raccontano tra di loro ed è molto particolare adesso il tempio di Suoyambu è questo qui che lo vedete ha una parte buddista che è quella ovviamente dorata si chiama stupa questa struttura e nella parte destra c'è una pagoda che è tipicamente induista una cosa molto bella appunto del Nepal è il fatto che le due religioni e anche le tante culture che ci sono riescono assieme a fondersi a confondersi e a vivere in reciproca pace e amore in uno stesso luogo e questo è veramente particolare potrebbe essere un esempio sì assolutamente infatti i viaggiatori quando vengono in questo paese la prima cosa che notano è proprio questa bella tolleranza che c'è tra le diverse culture la coesistenza allora diciamo che tu il Nepal lo conosci in lungo e in largo e da dove cominciamo? cominciamo magari un po' dai luoghi più battuti insomma per chi va per la prima volta in Nepal che cosa deve assolutamente non perdere? beh allora gli itinerari quelli più semplici quelli più diciamo turistici anche se comunque il paese è bello particolare si svolgono per la maggior parte all'interno della valle di Kathmandu che è quella che abbiamo visto prima nata appunto dal laghetto che è defluito grazie alle doti magiche della divinità in questa valle ovviamente la capitale è la prima cosa che le persone visitano appunto negli itinerari ci atterrano, ci arrivano e rendono praticamente subito il loro viaggio lo rendono subito a contatto con le persone perché la città è piena di mercati piena di vita di etnie diverse e infatti i primi passi che si fanno all'interno della capitale sono in queste vie dove si trova fondamentalmente un po' di tutto mescolato ci sono tipo templi come vedete in alto a destra che si mescolano quello è il tempio di Annapurna si mescolano appunto con le donne accanto che vendono le spezie piuttosto che gli artigiani che dipingono quadri quadri sacri questi si chiamano tanca sono delle raffigurazioni sacre fondamentalmente che narrano la vita del Buddha piuttosto che la ruota della vita tutte cose simboliche mistiche sono mandala il senso estremo di quella che è la vita o la religione e ci sono poi altri negozi di artigianato che fanno bambole piuttosto che tessuti abbigliamento legno e questo è il primo impatto che si ha appunto arrivando nella città che però è nota fondamentalmente al grosso del turismo per le sue strutture architettoniche qui appunto si possono apprezzare inizialmente e finalmente le strutture a pagoda e questi palazzi che fanno parte della vecchia della vecchia casa reale un tempo appunto il Nepal era un regno ora è una repubblica un tempo era un regno cibi era un re e il grosso della piazza principale con i templi tiene anche il palazzo reale quello che vedete sopra in alto a destra è la casa di una divinità vivente ecco una cosa particolare appunto che incuriosisce tantissimo i turisti è il fatto che il Nepal è un paese che ha una divinità in carne e ossa e questa divinità è una bambina ogni città ha la sua si chiama Kumari Kumar vuol dire vergine e questa bambina protegge legittima il potere l'esistenza di tutto il paese ma chi è che insomma decide che proprio quella bambina è la divinità c'è una diciamo una scelta una cerimonia molto molto particolare che avviene dettata ovviamente da dei sacerdoti e c'è una leggenda su questo e infatti è una cosa curiosa sempre storia leggendo assieme e questa leggenda cosa dice dice che un tempo un re un re Malla giocava a dadi con una divinità che si chiama Talesu che è una delle incarnazioni di Parvati Molledi Shiva insomma il mondo hinduista è pieno di divinità e questa questa divinità era bellissima e il re giocando a carte con questa a dadi con questa con questa dea vedendola ha iniziato a fare dei pensieri che non non avrebbe dovuto fare e la divinità ovviamente si è arrabbiata tantissimo si è adirata a tal punto che gli ha detto guarda tu non mi vedrai mai più se non con le sembianze di una ragazzina di una ragazzina che è ancora piccola per cui ancora non può darti nessun pensiero impuro e questa ragazzina governerà quello che è diciamo il futuro del paese legittimerà il tuo potere e sicché sparì e il re dovette andare a cercare per avere di nuovo con sé la divinità che tanto amava dovette andare a cercare questa bambina e le bambine appunto si vanno vanno cercate in alcune famiglie che sono le famiglie Neuari di Casta Sciacchia che sono gli orafi e vanno cercate come perché hanno dei segni particolari le chiamano le 35 perfezioni gli occhi a mandorla come quelli di un cerbiatto piuttosto che le gambe affusolate piuttosto che il viso bello rotondo nessuna imperfezione della pelle e tra l'altro queste bambine restano in carica finché sono piccole quando raggiungono praticamente la maturità la divinità vola via quando si feriscono e perdono sangue la divinità vola via per cui è una cosa particolarissima la Kumari dà anche udienza ai turisti oltre che al re e spesso c'è una fila di turisti che va nella piazzetta del suo palazzo il palazzo della Kumari e aspetta che lei si affaccia la finestra e sorrida a chi le dà udienza per cui è veramente una cosa molto particolare il Nepal è una cosa carina che ha tre capitali storiche infatti le tre capitali storiche sono come abbiamo visto Katmandu che è detta appunto un tempo veniva detta Kanti pur per la Dea Kanti che è un'altra personificazione sempre della solita Parvati e poi c'è Patan che è questa meraviglia di architettura a pagoda con questa piazza è la seconda capitale storica il nome antico era la Litpur la lit vuol dire praticamente il fiore di loto purezza è meravigliosa è stata restaurata e mantenuta da delle da delle missioni tedesche infatti è tutta precisa e anche nella pavimentazione anche dopo il terremoto del 2015 c'è stato un grosso terremoto appunto in qualche anno fa è stata ricostruita la piazza principale e ora versa ovviamente in uno stato splendido ed è diciamo pregevole da vedere per il turismo queste pagode sono solamente così bellezza architettonica o sono abitate ma sono templi fondamentalmente sono dei templi dedicati a delle divinità sulla sinistra invece c'è il vecchio parazzo reale tutta la struttura è il vecchio palazzo reale e all'interno del palazzo reale vi è un museo che può essere visitato che contiene opere d'arte e manufatti storici ovviamente dell'epoca e che tenete conto che in grosso sono tutte originali io già immaginavo il ristorante dentro la pagoda beh oddio da dove ho fatto le foto qui che vedi i garofani è un ristorante è un ristorantino sul tetto su questo tetto rooftop dove ovviamente i gruppi vengono stravolentieri perché hanno un punto di vista sulla piazza che è totalmente unico e particolare e qui ovviamente riescono a avere un colpo d'occhio sui vari templi anche su palazzo reale in attesa ovviamente di andare a fare la visita vera e propria per cui è una cosa carina ecco tenete conto che il grosso di questo patrimonio architettonico culturale è del quindicesimo secolo per cui è molto pregevole ecco l'altra la terza capitale storica a cui io sono un sacco affezionata perché qui ci vive la mia famiglia è Bhaktapur Bhaktapur è una piccola cittadina fa più o meno 30 o 30 mila abitanti ed è un museo a cielo aperto è pregevole sempre per le pagode qui c'è vedete in alto a sinistra la pagoda più alta del Nepal è più o meno 35 metri 5 piani il tetto è di 5 piani e è dedicata alla Dea Teleju che è sempre la stessa della Kumari e questa questa pagoda è come tutte le altre un vanto per l'architettura nepalese infatti una cosa che non vi ho detto prima è che la struttura della pagoda vera e propria è nata in Nepal ed è stata creata da un architetto che si chiama Ranico che poi l'ha esportata in tutta l'Asia soprattutto in Cina e la piazza che vedete in alto sappiatelo la pagoda cioè i cinesi è l'unica cosa che hanno copiato cioè la prima cosa che hanno copiato poi tutto il resto però la pagoda è nepalese quindi sì infatti ma scusami hai detto che qui ci vive la tua famiglia sì sì la mia famiglia adottiva adottiva perché tu insomma talmente ti è piaciuto questo Nepal che ti sei fatta adottare sì fondamentalmente sì vedete in alto in alto a destra e in basso a destra sono due punti di vista differenti della piazza dei palazzi in Nepal la chiamano Darbar Square Darbar è palazzo ed è la piazza principale della città ogni città ha la sua Darbar Square e qui ovviamente le pagode e i templi fanno da protagonisti è una città a museo aperto e infatti in basso a destra vedete questo tempio bianco fatto a Shikara qui avevano girato il piccolo Buddha con Bertolucci e cioè una scena bellissima con Keanu Reeves che si sveglia sotto i colonnati di questo tempio sotto la campana è veramente particolare e una cosa ancora che attira ancora di più il turismo è il fatto che il Nepal è uno stato che ha un sacco di feste quasi ogni giorno c'è una festa questa gente ha sempre voglia di festeggiare sia per motivi religiosi che per di varia natura e i festival nel paese sono un sacco colorati e Bhaktapur è una delle città e uno dei distretti che si riconosce per avere tra le feste più colorate infatti qui siccome ecco una cosa che non vi ho detto in Nepal hanno un calendario un po' diverso a dir la verità ogni etnia ha un calendario però l'etnia lo stato nepalese il calendario Vikram Sambat festeggia il Capodanno il 15 di aprile però sono nel 2079 adesso e nella sì infatti è un po' strano e nella diciamo nella città di Bhaktapur in concomitanza alla festa del Capodanno si fanno altre feste tipiche dell'etnia della valle che è l'etnia Neuari e qui ad esempio in questo villaggetto vicino a Bhaktapur che si chiama Timi fanno una festa che si chiama Sindor Jatrah Sindor è la polvere rossa e accolgono e festeggiano l'arrivo della primavera scusami ma dal momento che vedo così festeggiare hai detto che vanno tutti d'accordo quando c'è la festa di un'etnia partecipano anche le altre etnie partecipano tutti fondamentalmente sì allora qui in valle tieni conto che il grosso della popolazione appartiene a questa etnia però la gente non disdegna di festeggiare le diciamo le ricorrenze che ci sono anche per le altre fedi o le altre gli altri ceppi etnici ma poi un'altra cosa no perché mi è già capitato di sentire paesi che voi avete visitato dove le feste sono diverse addirittura qua il calendario ma per esempio per la scuola o per il lavoro come fanno a mettersi d'accordo con un calendario unico la scuola inizia il 15 settembre ma di quale anno e dove spesso si trovano chiuse le attività perché loro quando fanno festa ovviamente chiudono per cui tu magari vuoi andare a farti la spesa o comprati qualcosa però oggi è festa ed è chiuso per cui è un po' un po' particolare qui abbiamo anche un video della festa e questo video qui è praticamente una festa che viene fatta tra le famiglie in famiglia è una festa che si svolge più o meno tra il mese di ottobre e il mese di novembre si chiama Dasein e in questo caso si dà una benedizione la capofamiglia questa è mia sorella Pugia è mia sorella nepalese questa è sua madre mi fa questa benedizione dandomi anche un mazzettino di erba fresca che viene praticamente ad essere distribuita in occasione della benedizione ci sono molte feste appunto che vengono celebrate in famiglia e sono tipo il nostro Natale questa è una di queste e dura un bel po' di giorni quindi hai ricevuto anche la tua bella benedizione così a posto comunque è molto molto bello che si festeggi anche che ci siano delle piccole cerimonie anche all'interno delle case e dal momento che hai detto in pratica di avere un'altra famiglia di avere una sorella nepalese una mamma nepalese devo dire che a questo punto è una popolazione molto ospitale sì infatti è una cosa appunto che caratterizza il paese il fatto che siano così ospitali ovviamente ci sono dei luoghi comunque il paese è piccolo ma è anche grande quali sono i luoghi più visitati beh i luoghi più visitati è sempre all'interno dei circuiti che vi stavo dicendo nella valle di Katmandu a parte il primo che abbiamo visto che era il tempio di Suayambonat dove è nato tutto quanto per cui il turista viene portato lì proprio per fargli vedere dove è nata la valle un altro posto molto particolare da visitare è questo qui che si chiama Paschupatinat ed è è il tempio fondamentalmente il tempio del trapasso il tempio dove il ciclo della vita della morte e delle rinascite può essere può essere visto e apprezzato direttamente sulle sponde sulla riva del fiume questo tempio che lo vedete appunto nella fotografia in alto a sinistra dedicato a Paschupati che è una personificazione sempre del nostro magico Shiva divinità dedicata agli animali è il tempio dove avvengono le cremazioni dove ovviamente le persone le famiglie fanno il il funerale il funerale appunto qui appunto si vede in basso a sinistra la pira dove viene viene ovviamente reso in cenere il corpo della persona defunta in questo luogo ovviamente vivono anche i santoni i santoni sono queste persone che hanno lasciato ogni loro avere ogni cosa terrena per iniziare e intraprendere la vita ascetica li vedete coperti di cenere molti di essi sono fedeli del dio Shiva altri sono fedeli del dio Krishna e abitano in questo tempio possono essere ovviamente fotografati visitati alcuni di questi vivono in grotte in alcune grotte e sono asceti un pochino più puristi mettiamola così si possono andare a ovviamente a incontrare si possono ci si può parlare ci si può parlare alcuni di loro io ne ho conosciuto uno che faceva il cuoco all'Everest in un hotel non posso citare il nome stavo facendo una gaff colossale preoccupare tanto è difficile che insomma infatti questa persona faceva il cuoco in hotel e a un certo punto ha avuto questa illuminazione ed è diventato un santone asceta e vive lì nelle grotte tranquillamente e bello beato allora io sui santoni asceti andrei in pubblicità e poi continuiamo il nostro viaggio perché davvero il Nepal ha ancora tanto da offrirci pubblicità eccoci qua torniamo con la nostra Silvia Antonini italiana ma ormai adottata a pieno titolo dalla terra nepalese e anche dai nepalesi lei ci sta facendo vivere questo viaggio fra sogno fra storia e leggenda perché davvero questa è l'aria che fino adesso ho respirato attraverso le tue immagini del Nepal ci siamo lasciati con gli asceti che ci sono i puristi ci sono anche quelli insomma un po' più di città a disposizione del turista medio adesso se vogliamo finire di citare le cose che assolutamente è da non perdere in Nepal dove? beh fondamentalmente uno dei borghi più famosi per chi è appassionato di cultura buddista è Bodnat che lo vedete in foto il secondo stupa più grande dell'Asia e lo stupa più grande del Nepal qui si trovano molti profughi tibetani che sono venuti qui per cercare di avere una propria vita in semplicità e continuando le proprie tradizioni che avevano nel loro paese dove ovviamente ora non hanno più la libertà di farlo per cui qui è molto carino riuscire ad apprezzare anche la parte buddista qui si fa una passeggiata intorno alla piazza una piazza circolare molto carina e si riesce ovviamente a parte a fare shopping a stare con queste persone la cosa bella appunto che vi stavo dicendo del Nepal è il fatto di riuscire ad incontrare le persone perché molto molto spesso il viaggio va a vedere anche piccoli villaggi e soprattutto se andate in estate potete apprezzare il lavoro nei campi delle mondine qui appunto è una foto questa è una foto scattata in agosto e si vedono appunto queste donne che stanno lavorando nei campi in riso e è decisamente un'esperienza molto molto arricchente il contatto con le persone e tutto questo ovviamente unito alle bellezze che abbiamo visto di architettura e di cultura adesso lasciamo un po' le bellezze architettoniche e vediamo anche un po' di bellezze naturali del Nepal perché abbiamo capito insomma che è davvero una terra straordinaria anche dal punto di vista della natura infatti il Nepal ha un sacco di parchi naturali la parte che interessa molto i turisti ovviamente che non hanno la voglia o la diciamo la struttura per poter fare dei trekking è la parte sud dove ci sono mi viene da citarvi due parchi che sono uno il Chituan e l'altro il Bardia sono al sud del paese quindi nella pianura gangetica hanno delle specie animali molto particolari e protette che sono la tigre del Bengala il rinoceronte unicorno e anche il cocodrille del Gange una cosa che mi sento di segnalarvi e di segnalare ovviamente ai turisti che visiteranno questi parchi anche se farete fatica a vederla la tigre del Bengala perché è veramente molto timida sappiate che in Nepal sono riusciti a ripopolare e ad aumentarne il numero per cui è una specie in via d'estinzione che grazie al lavoro che si fa in questi parchi sta ricominciando a crescere e questa è una cosa veramente veramente è una buona notizia veramente bella per quanto riguarda invece i parchi i parchi di montagna chiamiamoli così il Nepal è famoso per il fatto che ha in sé nel suo territorio 8 dei 14 8 mila per cui chi è appassionato di montagna qui veramente perde la testa perché ci sono ovviamente questi giganti della terra e i relativi parchi che sono assolutamente da vedere e qui la natura si spreca infatti foreste ovviamente di conifere piuttosto che di pini di larici e di rododendri il Nepal è famosissimo per il fatto che ha alcune tra le foreste di rododendri tra le più rigogliose e vaste di tutta l'Asia infatti sia in area Napurna che è uno degli 8 mila sia in area Everest come vedete nella foto in alto a destra i rododendri fioriscono e sono delle vere e proprie piante noi siamo abituati in Italia quando andiamo a fare trekking a vedere queste piantine che sono più che altro dei cespugli e invece qui sono degli alberi veri e propri ovviamente la fauna e la flora è particolare qui non è come da noi ci possono essere delle specie alquanto particolari come ad esempio la vedete in alto a destra quei bovidi pelosi non sono niente altro che i famosissimi yak questi bovidi imalaiani che aiutano la popolazione locale a trasportare la parte pesante ovviamente delle mercanzie piuttosto che delle cose che servono che possono essere riso piuttosto che varie cose da trasportare in altura ovviamente sì in altura loro vivono a 3500 metri di quota per cui sono proprio degli esseri che sono abituati a vivere in altitudine ci sono ovviamente un sacco di rapaci gipeti barbuti piuttosto che griffoni piuttosto che aquile e l'uccello nazionale che lo vedete al centro in basso che si chiama danfe questo è un fagianide ed è veramente bellissimo perché ha dei colori stupendi può sembrare per alcuni una sorta di pavone vedendo appunto il capo con queste antennine scure non ha la coda come il pavone però è un uccello bellissimo fra un fagiano e un pavone sì infatti prima hai parlato del contatto con le popolazioni locali sì infatti quante etnie ci sono? ce ne sono un centinaio più o meno un centinaio fondamentalmente apportengono per farvela semplice a due ceppi che sono praticamente il tibeto birmano e l'indo-ariano a nord nella parte montuosa ovviamente prevale la parte tibeto-birmana e nella parte sud della pianura gangetica ovviamente prevale la parte delle popolazioni di origine indo-ariana la popolazione una delle popolazioni che è tra le più note nel paese è ovviamente quella scerpa la popolazione scerpa a cui io sono molto affezionata andando spesso appunto a fare trekking in Himalaya questa popolazione è di origine tibetana e arriva praticamente dalla valle dell'Everest est la valle delle Artemisie si chiama a carta sono migrati più o meno nel VI secolo attraversando ovviamente i passi alti la valle del Barun e sono arrivati in quella che viene chiamato solo Kumbu o Kumbu e hanno colonizzato questa zona del Nepal ora sono più o meno 150.000 persone che vivono vivono qui e hanno in mano quello che è il grosso dell'industria del trekking alla montagna più alta del mondo che è l'Everest e ovviamente queste popolazioni si sono stanziate in alcuni in alcuni villaggi che vedete in questa in questa diapositiva in alto a sinistra Namce poi abbiamo proseguendo in senso in senso orario il villaggio di Tame poi il villaggio di Kunjum e il villaggio di Porze tutti questi villaggi possono essere visitati durante i trekking e una cosa molto bella che hanno queste popolazioni come quelle della valle sono le leggende e le credenze e io credo che qualsiasi persona qui in in occidente ha sentito parlare almeno una volta nella vita dell'abobinevole uomo delle nevi e come no eccolo eccolo qui le popolazioni locali credono veramente all'esistenza di di questo ominide gigantesco dicono che sia alto più o meno due metri che abbia la testa forma di cono il petto totalmente glabro e che abbia un temperamento veramente intrattabile loro credono addirittura che lui uccida anche gli esseri umani ce ne sono di varie specie sono tre fondamentalmente quelli che portano calamità quelli che ammazzano dicono e attaccano le diciamo le capre piuttosto che le i bovidi i malayani e quelli anche che attaccano gli esseri umani nei villaggi di Kunjum e nel villaggio di Pamboce sono conservati due scalpi di questo ominide loro credono veramente che siano loro infatti si va al monastero e si chiede ovviamente dietro una piccola offerta ai monaci e loro ti faranno vedere gli scalpi di questi animali quindi lo ieti non si è ancora estinto secondo loro ancora abita ancora abita però il fatto che non ci sono davvero delle prove tangibili che sia veramente esistente è una leggenda anche se alcune donne ad esempio raccontano di essere state attaccate c'è una storia a Macermo che è un villaggio nella valle di Gocchio per andare all'Everest c'è questa signora che racconta che è stata attaccata e lei è stata trovata svenuta in mezzo alla neve con tre yak morti e dicono che appunto sia stato lo ieti le racconta di questo attacco ed è decisamente particolare gli scerpa sono una popolazione molto tosta infatti sono stati studiati anche da noi italiani questa è la piramide del CNR all'Ubuce ed è praticamente stata per tanti anni un vanto della nostra diciamo della nostra ricerca qui hanno studiato gli scerpa hanno visto che comunque sono geneticamente predisposti a vivere in quota e per farvela breve fondamentalmente uno scerpa perde solamente il 26% della sua capacità praticamente aerobica per cui tipo il cavallo motore lui è fortissimo e una una persona che ha un allenamento ovviamente è molto meno resistente a lui ti so dire una persona normale a stare in quota cosa mangeranno per essere così forti loro hanno detto che si dice dal butt power for 24 hour loro mangiano una zuppa di lenticchie e il riso ovviamente accompagnato anche con le patate al curry o con verdura al curry per cui mangiano fondamentalmente una dieta vegetariana e che possiamo apprezzare anche noi quando facciamo i trekking e sono decisamente forti fin da piccoli infatti come vediamo appunto in questa foto le abituano a portare i pesi e loro crescono appunto belli temprati infatti e questa è una cosa molto molto particolare una popolazione che affascina ovviamente i turisti e anche i trekkers ma siccome noi siamo molto meno temprati di questo bambino o bambina insomma della foto ecco l'esperienza nel campo base non voglio andare lontano ma nel campo base dell'Everest è fattibile da chiunque o bisogna essere temprati allora intanto vi faccio vedere tre video del volo perché per andare al campo base Everest bisogna ovviamente partire in volo in aereo da Katmandu adesso si parte da Ramechop però più o meno e questo voletto che è un twin hot che porterà fondamentalmente 16 posti porta i trekker turisti verso l'Himalaya per fare ovviamente un trekking all'Everest bisogna un attimino essere allenati non è un un viaggio un viaggio per tutti se non è anche per fare sto voletto bisogna essere un po' allenati perché sì infatti poi anche negli altri abbiamo un altro video sì sì sono tre questa qui è la pista d'atterraggio di Lucla il paesino da dove inizia il trekking è l'ottavo aeroporto più pericoloso al mondo la pista non è ancora proprio stabile stabile la pista di atterraggio è lunga 450 metri la prima volta che sono atterrata lì c'era un aereo con il muso fasciato per cui non è stato molto rassicurante e qui ovviamente partono e arrivano i trekking turisti da tutto il mondo è un volo più o meno di 40 minuti ti fa apprezzare le alte montagne si vede l'Everest dal volo basta sedersi nel seggiolino di sinistra con la finestra a sinistra e si riesce ovviamente a vedere la grande montagna già in volo se non svieni perché guarda come traballa vabbè siamo arrivati al campo base siamo arrivati al villaggio di Lucla al villaggio e qui inizia il trekking ovviamente vi stavo dicendo bisogna essere allenati bisogna avere una predisposizione ovviamente al trekking riuscire a camminare per un bel po' di giorni sono dai 12 ai 13 giorni riuscire a camminare 5-6 ore al giorno tutti i giorni riuscire a sopportare e ad abituarsi alla quota perché ovviamente si parte da 2.800 metri ma si arriva fino a 5.545 per cui è una diciamo una cosa che può essere impegnativa e necessita di una forte autoselezione e appunto qui vediamo le foto dell'arrivo che abbiamo visto in video e il percorso inizia ovviamente appena arrivi fai subito fai subito diciamo entri subito in confidenza con quello che è l'ambiente locale e la tua prima passeggiata sarà più o meno di dalle 3 alle 5 ore a seconda di dove vorrai fermarti il bello appunto della valle dell'Everest come tante altre valli nepalesi è che ti dà la possibilità bene o male di fermarti molto spesso e di poter riposarti in vari lodge e guest house dove puoi berti un tè dove puoi mangiare qualcosa perché comunque è un'area viva dove vive la popolazione con cui puoi entrare a contatto e ovviamente i paesaggi sono superbi tipo questo questa è una montagna che si chiama Tamserku che è quasi 7000 metri si vedono appunto gli aerei che ci passano accanto che è molto suggestivo da vedere e qui questa montagna si apprezza nel secondo giorno di trekking anche qui anche questo secondo giorno ha una durata che va dalle 3 alle 5 ore a seconda di dove ti sei fermato la notte precedente nella foto antecedente ti ho vista praticamente alla partenza con uno zaino molto piccolo sì sì e questo si riconduce alle popolazioni locali perché le popolazioni locali sono qui per noi fondamentalmente e i portatori che sono di solito di etnia rai e limbu che sono delle etnie che abitano sempre la regione del solo kumbu aiutano i trekker a portare il grosso del peso di solito si caricano appunto lo zaino che noi in cui noi abbiamo messo il nostro sacco a pelo le nostre giacche a vento quello che ci serve per i nostri 12-13 giorni immaginavo che non potesse essere tutto lì quello zainetto per cui sono sono veramente di grande aiuto alle persone che camminano loro non possono in teoria non gli si dovrebbero dare più di una dozzina di chili da portare poi insomma sta anche al buon cuore sì spesso ovviamente vengono caricati di più è più difficile abituarsi all'altitudine o al freddo? beh l'altitudine è una cosa soggettiva e non tutte le volte è uguale della serie che se tu sei idem se tu sei allenato se sei anche ben predisposto puoi stare bene come puoi stare male per cui è un rischio questo a cui uno non è che ci fa l'abitudine dipende dipende appunto da come ti prende il freddo invece se uno non è abituato caspita fa davvero fatica perché di notte la temperatura cala parecchio cala veramente tanto e questa è la cittadina di Namce che è una delle delle cittadine dove vive appunto il popolo scerpa e che è meta del secondo giorno del trekking dove si fa climatamento ecco una cosa che non vi ho detto è che ogni mille metri guadagnati di quota bisogna fermarsi bisogna fermarsi una giornata per permettere al corpo di abituarsi all'altitudine per cui noi abbiamo fatto due bei giorni in cui abbiamo camminato le nostre tre quattro cinque ore e ora nel terzo giorno di trekking visiteremo l'area scerpa per cui alcuni villaggi facendo una camminatina arrivando fino a quattromila metri Namce a 3440 metri e si fa questo annellino di più o meno sei ore a piedi dove si va a visitare ovviamente i villaggi che vi avevo fatto vedere nelle foto prima che sono questi qui e si riesce ad abituarsi un pochino pian pianino alla quota proseguendo finalmente appare l'Everest qua sono io bella contenta un po' un po' stanchina forse però riesco a vedere appunto finalmente il tetto del mondo che è la prima puntina che vedete delle montagne innevate sulla sinistra in mezzo c'è il Lozzi che è un altro 8000 e sulla destra c'è la Madablam che lo chiamano il cerbino qui ero più o meno a 3500 metri appena soprano in canotta bella serena sì nel mese di aprile comunque primavera e non si sta per niente male direi che si sta bene il percorso ovviamente è questo qui come vedete qui mi riallaccio all'appunto che tu mi hai fatto dello zainetto piccolo mio e quanto sia grosso invece il peso portato da queste persone questi non sono degli zaini dei tracker ma sono dei materiali che loro portano sempre a spalla dall'aeroporto di Lucla fino sopra e che possono essere dal cibo a tutto quello che può servire per vivere in quota in questo ovviamente ambiente e vedete anche ci sono gli IAC che fondamentalmente allora di solito vengono usati nelle spedizioni alpinistiche per portare i bidoni da spedizione e qui sotto uno dei tanti stupa che si trovano nel percorso questo è dedicato a Tenzing Norgay che è il diciamo la persona che ha scalato per la prima volta l'Everest il villaggio che si vede poi subito dopo è Temboce dove c'è un monastero dove avviene anche qui una festa di cui c'è un piccolo video ecco qui i monaci ovviamente insegnano la via del Buddha il Dharma alle persone con rappresentazioni teatrali questa festa avviene a novembre ed è molto bella da riuscire a vedere e da qui ovviamente ecco questo è un esempio la finestra della mia stanza da letto e una monaca a cui ho portato degli aiuti e come può essere invece in ospitale in inverno in dicembre vedete la foto la foto sotto infatti anche qui vedete infatti anche qui vedete l'OIAC la barbetta con i candelotti di ghiaccio attaccati sotto il trecco ovviamente prosegue prosegue sempre ad una quota superiore questo è il villaggio di Dimboce che è più o meno a 4.400 4.500 metri anche qui abbiamo guadagnato altri mille metri dobbiamo fermarci e facciamo un piccolo un piccolo trek per arrivare a quota 5.000 e ad abituarci ovviamente al tetto del mondo la tappa successiva ci porta a diciamo a una parentesi un po' particolare il passo Dugla Dugla Pass prima di arrivare al villaggio di Lobuce qui vi sono vi ha un memoriale molto grosso alle persone dedicato alle persone che sono perite durante ovviamente le spedizioni alpinistiche per cui qui c'è una sorta di ci sono una serie di monumenti dedicati a queste persone e poi dopo aver passato il villaggio di Lobuce che ha 4.900 metri sempre con la famosa piramide del CNR vanto della diciamo della ricerca italiana finalmente si giunge a Everest Base Camp e al colle del Calapattar vedete appunto la montagna più alta del mondo che è in basso a sinistra e che spunta in alto a sinistra tra il Nubse e ovviamente il ghiacciaio del Kumbu che vedete in alto a destra sotto la montagna della Badablando si trova al campo base e qui ovviamente finisce il trek all'Everest qua sono io appunto sul tetto del mondo finalmente felice e contenta ovviamente poi bisogna tornare indietro per cui ci vuole ovviamente un po' di pazienza e un po' di buona volontà diciamo che questo è il campo base e poi per gli espertissimi per coloro che fanno gli alpinisti sì è tutta un'altra cosa perché le spedizioni sono tutta un'altra storia il trek può essere fatto da persone di buona volontà che sono allenate che sono portate a stare in montagna e abituate a stare in questo tipo di ambienti bene ci hai fatto vivere davvero Silvia un viaggio appassionante anche ricco di tante cose tante avventure come fanno i nostri telespettatori se vogliono venire con te in Nepal se vogliono venire con me in Nepal devono ovviamente andare a vederci aspetta che vado a recuperarmi la fotografia da andare a trovarci ecco qui nell'angolo dell'avventura di Milano e ci trovano su Facebook su Instagram sui social e sul nostro sito internet e da lì ovviamente possono vedere tutti i vari itinerari che noi proponiamo senti ma oltre al Nepal c'è un altro paese che hai nel cuore che ti ha rapito non ti dico così tanto però insomma qualcosa che consiglio dici no adesso guarda vorrei andare lì beh sicuramente è il viaggio che ho fatto quest'estate nella Puna Argentina ah ecco voglio dire sono questi tipi di viaggi sì in Argentina sì è un altro viaggio in quota molto bello strepitoso con dei paesaggi unici che suggerisco assolutamente di fare consiglio di Antonini si va in quota questo è poco ma sicuro però è ben difficile in geografia come morale capire il mondo senza uscire da casa propria questo non scordiamolo mai grazie ancora Silvia grazie a te grazie a voi ci vediamo alla prossima grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te